Siete pronti per una nuova video recensione ragazzi? Gabriosta ve la farà vedere subito, ma state attenti perché oggi vi spiegherà nuovi personaggi della DC Comics, eroi e nemici. Cominciamo da Flash, ora ve lo spiego meglio chi è Flash, se state tutti attenti e concentrati. Dopo l'incidente elettrico nel suo laboratorio, lo scienziato Barry Allen si ritrovò con l'abilità di muoversi, pensare e reagire a supervelocità. Flash, membro della Justice League, usa la sua supervelocità per combattere il crimine. Movimento a velocità vicina a quella della luce, vibrazione attraverso la materia solida, capacità di viaggiare nel tempo, capacità di viaggiare tra le dimensioni. Flash della dittatura Flash si è unito al governo di Terra Unita, di Superman per paura. Forse all'inizio credeva nella sua ideologia, ma recentemente ha iniziato a nutrire dei seri dubbi. Else World Flash viene da uno dei molti Else World dell'universo DC. Nella sua realtà, Barbara Gordon, figlia del commissario James Gordon, sovraintende Gotham City come dittatrice e Supergirl è la protettrice di Metropolis. Ha un'aurea che annulla la frizione. Ora Flash alla notte più profonda. Il Flash della notte più profonda non è Barry Allen, bensì la sua nemesi, Eobard Tavn, l'antiflash. Ressuscitato da un anello delle lanterne nere, Eobard ha deciso di indossare il manto del nuovo Flash nero, mietitore dei velocisti. Terra 2 J. Gerrick è il Flash di Terra 2. Dopo avergli donato i suoi poteri, l'Olimpico Mercurio mette in guardia il nuovo Flash circa il grande pericolo che sta per minacciare la Terra, intimandogli di non fidarsi di nessuno. Fate attenzione perché adesso Gabriel Osta vi spiegherà e vi farà conoscere l'arcere Freccia Verde, oppure potete chiamarlo Green Arrow se volete. Chiamatelo come volete. Come un moderno Robin Hood, l'ex miliardario Oliver Queen agisce in base ai propri ideali progressisti, nei panni di Freccia Verde ha un arsenale di frecce truccate che riflette la sua personalità. È un arciere esperto, usa diverse frecce truccate, è addestrato nelle arti marziali, è atleta eccezionale. Le frecce le può fare di fuoco, di ghiaccio e persino elettriche. E poi si nota anche il pugnale nel suo arco, attaccato. È della insurrezione. Tra i primi oppositori dell'oppressivo governo di Superman, Freccia Verde è stato abbattuto e ucciso durante l'ascesa al potere dell'alto consigliere. Gli insorti lo ricordano come un eroe. Poi diventa Arlov. Di giorno Oliver Queen è un miliardario playboy, ma di notte è un vigilante incappucciato noto come Freccia Verde. Per esaudire l'ultimo desiderio di suo padre, Queen riporterà Starling City al suo antico splendore. Ora vi spiegherò un lanterniano, che voi lo conoscete benissimo e l'avete visto al cinema nel 2011. Vi spiegherò Lanterna Verde, che viene dal pianeta Oa, ma voi potete chiamarlo Green Lantern se volete. Al Jordan, ex pilota collaudatore, fu scelto per far parte del corpo delle Lanterne Verdi per via della sua natura impapida, il suo anello del potere che può usare per creare qualsiasi cosa riesca a immaginare. Ha un'incredibile forza di volontà, l'anello del potere è l'arma più potente dell'universo. L'anello può creare ogni costrutto di energia, immaginato da Hall, e può anche volare. E' della dittatura. Il senso dell'ordine di Hall lo ha portato ad accettare la filosofia del regime di Terra Unita. Ora crede che la sua paura sia più efficace della volontà, e tale convinzione lo ha trasformato in Lanterna Gialla. Poi è Red Sun. Il colonnello Al Jordan ha preso il comando del corpo delle Lanterne Verdi, agli ordini del presidente Lex Luthor. Il corpo è la prima linea di difesa contro Superman e la sua invasione degli Stati Uniti. Attenzione perché diventa Lanterna Gialla. Il senso dell'ordine di Hall lo ha portato ad accettare la filosofia del regime di Terra Unita. Ora crede che la paura sia più efficace della volontà, e tale convinzione lo ha trasformato in Lanterna Gialla. E' vero. Io non so chi è Lanterna Gialla. Chi sarà mai sto Yellow Lantern? Però è un'altra persona Lanterna Verde, oltre a Hall Jordan, perché c'è anche John Stewart. Ex marine e architetto, John Stewart era stato scelto dai guardiani come sostituto di Hal Jordan. Da allora John è diventato un membro rinomato del corpo. Ok, vi saluto ragazzi. Se questa video recensione vi è piaciuta, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. E altri video vi aspettano, ma ricordatevi che non abbiamo ancora finito. Ci sono altri personaggi da spiegarvi e da farveli conoscere, tutti esti della DC Comics. Arrivederci.